e quindi da sempre noi facciamo dei progetti che sono dei progetti dedicati al risparmio energetico che comunque nel nostro DNA è una delle tematiche più presenti. Per noi tutti i cinquattordici la sostenibilità è un insieme di due atteggiamenti. Da una parte c'è un atteggiamento di tipo tecnica, quindi come portatori, come rappresentanti comunque del mondo occidentale, quindi del mondo tecnologico. Se io progetto un oggetto che ha una durata estremamente compatta, estremamente limitata, che è pensato per vivere e durare poco, di qualsiasi commento un errore imperdonabile in questo periodo storico, perché comunque questo è un atteggiamento non sostenibile, anche se è fatto con un sistema tecnologico più sostenibile e più ciclabile del mondo. Deve avvenire sia nella progettazione dei posti in cui viviamo, sia degli oggetti che utilizziamo, sia nella casa, che ne so, dalla stilografica al rispetto e non se getta.